Ciao Stort saluta Buongiorno Buonasera e buonanotte Sì non è neanche notte però dai Sono tre quasi mezzo dai Non vedi niente Oggi rega Vorrei fare una partita Su arena e forse anche Se vincerla adesso Ah ti sei messo brutus Wow grande Adesso vince la rega Adesso un po' esagerata Per me non arrivi Per me arriviamo almeno in Oh 101 fra Per me arriviamo In divisione Sì sei in divisione 15 Ma va io sono in divisione Oh fra 102 102 Hai preso quella cosa che ti ho dato? Sì l'ho preso Questa per me Oh c'è la bomba uno scudo facciamocela Vieni vieni Fra perché spari dai fra Ecco 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 No Aspetta 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 Dai adesso che abbiamo la bomba uno scudo Ecco Io li spammo Spamming è incredibilo Spammo di me Pulita sopra pulita sopra No c'è un altro Pulita sopra Stai scherzandoci uno Un altro Cosa è successo? Ma va va Ma va va Ma va va Perché fra dai avevo uno di vita So stronzo di merda Uno di vita aveva Fra L'altro è un infame Un infame Attento 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 questo è morto Ci scommetto quanto vuoi che è morto Dai rifacciamo un'altra Fra dobbiamo vincerla Dobbiamo vincerla Dobbiamo vincerla Dobbiamo vincere Vedi che cosa stanno dicendo Perché io non voglio mettermi Che cosa? Comunque Vi dico Non me lo dite perché Ti toccano Cos'è messo la Tiki Verso venti punti Verso venti punti Verso venti punti Dai però metti pronto per favore Olaccio Devo mettere le cose di bluetooth Matti Eh ma si Ma comunque dicono tutti quanti a me Jacopo è più forte di storia Ehh questo potrebbe essere anche vero Se volete che faccia 1v1 con lui Lasciate un bel like e iscrivetevi Già l'hanno lasciato Dai stai zitto Dai rega Iscrivetevi così Farò 1v1 con lui e vedremo Chi vincerà Per me vincerà lui Perché se va a giocare il suo fratello È un po' più Ok Ecco gioca a tuo fratello Sei come tuo fratello Però se tra i erdo io ti distruggo Vero caro mio Non preoccupate che Lasciate like che poi io faccio vedere Io insieme al mio caro mio Io faccio vedere io Ah rega comunque vi ricordate Nello scorso video Quella cosa che gli ho detto che farò un troll Sì ragazzi Che fatto Fatelo Eh no niente fra niente Ti sento Eh niente dai fra niente Scusi scusa Niente Quello scherzo lo odio ancora Quindi non pallanne Perché se no Seguate a te No ma non è che fingermi una ragazza No lo faccio a te Lo faccio a Sergio Perché lui è abbastanza scemo Beh se vuoi aiutarmi va bene Le lo faccio dopo se ritorno online No 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 Se loro che stanno vedendo questo video Fanno quello che ho detto Nello scorso video Solo se lo fanno ovviamente Lo farò E mi aiuterai Va bene a start o maradona Dieci Sì Il video mi dovresti chiamare Matteo lo so Lo so Ma chi se ne frega Vieni qua da me fra Andiamo proviamo a andare lì Beh tutti stanno andando a Brul Se superiamo i centomila like Sul mio canale Porterò un video Insieme a Sergio E a Jacopo Tu quant'ora quanti iscritti hai? È il più di te Perché tu quanti ne hai? Ehm... Te lo dirò solo Del prossimo video che farò 100.000 like Io non ho neanche 100.000 iscritti Stai zitto va Stai zitto Vabbè io c'ho 100.000 like Vado un po' Eh se c'è Non ti crede neanche Dai basta Fare di queste stupidaggini Non ti crede nessuno Lo giro oh madame Va bene Sì sì Ragazzi non credetelo Stai te lo so Che non ti sta credendo Vabbè dai fra Ci credo dai Ti faccio contento Ci credo dai Ci credo così Ti faccio almeno contento Ma io non ti consiglio I poteri Va vero Va vero Aspetta rega Va vero Quella cosa No No perché non va Ah Ti scivola Perché non va Perché non va Perché Perché Non va Perché Non va Fra ma tu scusa Per ripristinare La struttura La struttura cosa usi La R del pad Cos'è Cos'è usi Ma se io toco da mouse Scusi Sì 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 Va bene Va bene Allora Ho scuso F Eh ok Però Perché adesso Non mi fa fare Ecco Modifica No Dai però Perché Dai Rega Il problema Il problema è questo Che adesso Adesso Non ho più Quella modifica Guarda Ripara Cambia Cambia Trappola No Mi ce l'assaggio Ma no Ma lui Dai però Fra perché Non funziona Adesso Le provo tutte Le provo tutte Guarda Ripara Ma perché Fa così Perché Fa così Perché Fa così Eeeh Dove De Palle Ah c'è Ti scivola Ripara No Riprestino Non c'è Neanche Perché Ma perché Non c'è Riprestino Ma perché Però il problema È questo Io così Non riesco A giocare Non riesco A giocare Però guarda Cosa succede Guarda Cosa Guarda Guarda Oh 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 Non riesco a perdere Dai Guarda Non mi fa Ripristinare Perché Perché Fa così Perché Sta Merda Fa così I follower No Ma cosa Devo Ci Devo Dire Dai Perché Ho disattivato Questi Che Devo Tenere Attivi Ma Dicela I Tue Follower Basta 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 Sta Set Sta Set Provaciti Scivola Ragazzi Lasciate un commento Se Jacopo E' uno scemo Beh Come sono scemo Scusa Come sono scemo Ma dai Ma io fra Non sono scemo Dai E di là Gli iscritti No Così non ti dico Non ti dico Che sei scemo Tanto arriverà Quel giorno Arriverà Sta tranquillo Arriverà 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 Non ti preoccupare Arriverà La mia Vesmessa Sì Ecco Vedete che Non la farei Mai Mai E mai E mai Non ricordo nemmeno Il giorno della tarda Guarda un po' Devo forse Far così Fra ma Ma te ne sei accorto Che siamo Senza masse Abbiamo lute di merda Ehm E hanno appena Restato Ma chi ce ne frega Se moriamo Poi so cazzicoli Eh Sì va bene Tanto Sì facciamo punti gratis Medi di niente E se li uccidiamo No niente Scusa Se li uccidiamo Che cosa Che cosa Pezzo di me Ma se li uccidiamo Ma se li uccidiamo Che cosa Che cosa Che cosa Che cosa Jacopo Che cosa Che cosa Che cosa Che cosa Che cosa Che cosa Cosa c'è Cosa c'è Cosa c'è l'ho provato un botto di volte perchè fa cosi adesso fra tu te perchè fa cosi no ma perchè fa cosi perchè fa cosà no cosa volevi dire scusa cosa volevi dire aspetta ma c'è la safe no no non possiamo ancora stare qui questo video dura un botto questo video dura finché Jacopo non trova sta cazzo di effe io farò comunque o questo perchè ho ucciso un corvo beh meglio perchè sei andato via ah perchè sei andato via pezzo di pezzo di merda allora facciamo così facciamo così a 100.000 like dice a Jacopo alla sua ragazza vera che non l'ha lasciata ma basta tanto 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 se arriviamo a solamente 5 like ok ma non ci credo nemmeno per scherzo beh se arriviamo a 5 like trollerò la mia ragazza lì dirò che la lascia per scherzo ovviamente non per l'italia se arriviamo a meno se arriviamo a meno a meno 10.000 like troverai la tua ragazza no 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 5 like ok 5 like 5 like dovrai dire la tua ragazza che ha trovato un'altra e poi dicendo alla fine stai qua sopra fra stai qui dove sono io stai qui dove sono io sta qui stai qui dove sono io stai lì fermo come cazzo vuoi fare nooo dall'altra parte sbagli vai mettiamolo in acqua la stanno comunque fightando e noi ci servono dei massi eh mi stanno già sparando sti appunto come culo non so neanche corto appunto petto di merda oh mi hanno distrutto si ma io fra muoio fra muoio 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 mi stanno sparando si stronzi ma io sono macchina io sono macchina ma tu hai pochissima vita fai vieni da me se io questi li vado da dietro li uccido basta guarda che lutte di merda che ho però dai come facciamo a vincere come facciamo tu giochi al super mario è ritornato online ma cosa dici fra non gioca al super mario odyssey nooo è ritornato online serio voglio andare a vedere no non è online non è online non è online non è online guarda che ora c'è vabbè io ho quitto guarda quitto che facciamo prima dai voglio quittare vabbè ci se ne frega tanto cosa c'è uno di vita grazie al cazzo se guarda che lutte che avevano questi hai una pompa leggenda è una pompa leggenda io ho voluto di merda però dai però 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 oh 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 mi sono ritornato al lobby dai faccio vabbè dai riga facciamo una cosa ci vediamo al prossimo video ciao ciao